In un momento di crisi economica e sociale io credo che sia assolutamente importante cercare e ricercare nuovi paradigmi di sviluppo. Non certo che quelli vecchi siano da buttare a mare perché sono molto importanti, la civiltà occidentale ha raggiunto un buon livello di benessere, ma senza dubbio gli strumenti che abbiamo sono non sufficienti, sono necessari ma non sufficienti, bisogna integrare con nuovi aspetti e appunto credo che un'attenzione maggiore all'individuo nei suoi aspetti più ampi, quindi non soltanto in quelli dell'homo economicus ma anche della persona e poi l'attenzione anche ai beni comuni possa dare delle chiavi di lettura importanti per lo sviluppo integrale della società futura. L'incontro di oggi sicuramente è indicativo di un interesse importante della politica sia appunto della regione ma anche delle amministrazioni locali per questi nuovi temi. Ecco, io come assessore all'innovazione e allo sviluppo economico del Comune di Udine sarò sicuramente attento a questi nuovi paradigmi. Grazie per la visione!